con chiarezza, ma che interrogano? Ma qui non siamo finca di fronte a un plotone di inquisizione per fortuna, per fortuna. Allora, noi non abbiamo dubbi sulla correttezza, non siamo esperti del procedimento, il colore, nulla o se è stato preso, andava ripreso per ogni vite che si cambia, non lo sappiamo. Hanno lavorato, stanno lavorando con atti di gestione bene i nostri uffici, se c'è qualche dubbio è anche potere dei consiglieri comunali mettere in campo azioni di controllo, indirizzo e controllo, questo dice la legge e quindi mi sembra che l'ordine del giorno presentato da me e dal capogruppo Carlini sia un garbato e rispettoso modo per chiedere agli uffici che hanno messo in atto gli atti di gestione, abbiamo qualche perplessità, ci fate capire che cosa è stato fatto, come non è stato fatto, magari vogliamo interpellare qualche nostro esperto esterno all'aula che ci sta manifestando, non lo sappiamo. Allora andare in commissione lavori pubblici e consultare chi ha emesso quegli atti, mi sembra il modo migliore per compenetrare, esigenerlo. In commissione si compenetra!